Grazie, siamo alla seconda edizione di Caccia 5 di Unileak, anche quest'anno si farà nella stessa sede degli altri anni, quindi ci preparano e per info potete rivolgervi o alla pagina unileak.it o potete rivolgervi all'interestataro per tutte le informazioni. Quindi vi aspettiamo numerosi e speriamo anche presto possibile. Grazie!